Biografia Martina de Iannon, nova tronista di Uomini e Donne. Martina. Dentro il programma Temptation Island le insicurezze di Martina nei confronti del fidanzato sono aumentate, anche a causa del fatto che Martina de Iannon si era in parte invaghita del tentatore Carlo Marini, ma usciti dal programma poi le cose fra di loro non hanno funzionato e lei ha accettato la proposta di diventare tronista di Uomini e Donne. Diciamo che idealmente prende il posto di Manuela Carriero. Chi è Martina de Iannon tronista di Uomini e Donne? Martina de Iannon in riva al mare prende il sole. Martina è una bellissima ragazza di 26 anni nativa di Roma dove lavora in un prestigioso ristorante di famiglia. Si tratta di un locale frequentato da molti VIP fra cui ci chiamo Mahmood e Francesco Totti fra quelli che più e frequentano. La romana è anche una grande appassionata di moda e viaggi. Il problema più grande che ha avuto con Raul è che lei voleva andare a convivere, ma lui invece non è mai stato convinto fino in fondo a fare questa scelta. Aspirazioni. Nella sua vita in ogni modo Martina aspira a specializzarsi nel mondo della moda, non sembra particolarmente interessata al mondo della ristorazione. Vita privata. Nuova tronista di Uomini e Donne di Maria de Filippi. Mentre Martina non è figlia unica infatti ha tre fratelli, che sono Riccardo di 14 anni, Francesco Marco la nuova tronista di Uomini e Donne è molto affezionata ai suoi fratelli minori. Dal punto di vista emotivo sentimentale è stata a lungo legata con Raul Dumitrassi due si sono lasciati e ripresi, il tutto anche per la gelosia di lui. Dopo di lui ha avuto un flirt con Carlo Marini andata avanti fino alla metà di agosto. È molto attiva su Instagram e TikTok dove spesso posta foto e video della sua vita privata. Ha dichiarato nel video di presentazione a Witty TV di se stessa. Precedenti relazioni. Per quello che abbiamo scoperto la relazione con Raul Dumitrassi è la sua più importante relazione, non abbiamo trovato altre relazioni di rilievo della nuova tronista di Maria de Filippi. Martina de Ioannon nuova troncita di Uomini e Donne. Quando mi innamoro do tutta me stessa. Ho 26 anni e non cerco una storiella. L'uomo che vorrei accanto mi deve corteggiare. Mi auguro di trovare che condivida la mia stessa visione della vita, che mi faccia perdere il controllo e mi faccia provare quel brividino. Aneddoto personale. Uno dei motivi che non la convinceva dell'ex fidanzato era il fatto che lui era eccessivamente geloso in ogni cosa che lei faceva. Scheda biografica Martina de Ioannon. Martina de Ioannon in riva al mare prende il sole. Nata a Roma. Residente a Roma. Nata e l'informazione non disponibile. Altezza 1,75 m. Peso non disponibile. Capelli biondo scuro. Segno zodiacale ariete. Professione lavora nel ristorante di famiglia. Grazie. 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 Grazie.